Benvenuti all'edizione del 19 del nostro giornale, dunque l'avete sentito, ci sono pure le notizie per le industrie della Sardegna centrale grazie al protocollo di intesa che è stato firmato oggi, i particolari li vediamo nel servizio di Stefano Birocchi. Un protocollo che individua i presupposti per dare l'avvio ad azioni già previste in grado di rilanciare l'industria della Sardegna centrale. Il governatore Cappellacci ha descritto così il provvedimento firmato nel primo pomeriggio tra Regione, l'imprenditore Paolo Clivati, Indorama, le organizzazioni sindacali e industriali, i rappresentanti degli enti locali. Il documento individua soluzioni strutturali che riguardano energia, trasporti e servizi. Prevista la realizzazione di una centrale da 400 megawatt di un parco fotovoltaico e termodinamico in collaborazione con il CRS4. Saranno potenziati collegamenti ferroviari navali, realizzata nel territorio di Borore, una stazione di raccordo intermodale per il passaggio di materiali e prodotti dai camion ai treni. E gradualmente ridotte del 50% le tariffe del Consorzio Industriale Provinciale. Gli interventi daranno nuova linfa alle attività esistenti e sosterranno il gruppo Clivati Indorama per l'acquisto e la gestione dello stabilimento Equipolimers. Con i suoi 120 dipendenti più l'indotto la più grande realtà industriale del centro Sardegna dopo la chiusura degli stabilimenti Legler. Per il passaggio alla nuova proprietà Equipolimers resta da sciogliere solo il nodo della fornitura delle materie prime necessarie alla produzione del PET. Giovedì è stato fissato un incontro a Roma con Leni che dovrà far sapere se intende concedere le quantità doppie richieste dalla nuova gestione. A questo proposito i sindacati nuoresi hanno chiesto alla regione un ulteriore sforzo per spingere il governo ad esercitare le opportune pressioni sull'Eni.